Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Lo vogliamo scoprire un bel libro insieme, un libro da leggere, un libro da leggere spaparanzati sotto l'ombrellone o magari in una pausa nelle passeggiate in montagna di quest'estate o forse ancora nella pausa pranzo mentre siamo in città a lavorare e ci prendiamo qualche momento per crescere e per migliorare perché in fondo tutti questi libri dei quali parliamo su Strategia Digitale ci servono per crescere, crescere nella professionalità, crescere personalmente, crescere nella nostra capacità di guardare e pensare in maniera lucida e consapevole al business e a come possiamo farlo attraverso il mondo digitale. Il libro di oggi è uno strumento preziosissimo per tutti coloro che hanno un'idea, che hanno un progetto, che stanno facendo la start-up o che vorrebbero farla. È un libro che può insegnarci un metodo tratto dall'esperienza personale dell'autore fondamentale per riuscire a partire, a far partire il nostro progetto e ad attingere dalla realtà e non dalle nostre speculazioni dati utili per lo sviluppo del nostro business. Ci arriviamo subito a scoprire di che libro si tratta. Solamente voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove puoi andare se non sei ancora iscritto al podcast, sei già iscritto, segnala questo podcast a un tuo amico. Magari vieni tu su strategiadigitale.info per lasciare una tua recensione o per diventare produttore di questo podcast. Ma ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il momento di immergerci nel libro di oggi e scoprire insieme di che cosa si tratta. Partire leggeri Il libro è scritto da Eric Ries e il sottotitolo è Il metodo Lean Startup Un'innovazione senza sprechi per nuovi business di successo Edito da Rizzoli Questo libro ci insegna una cosa fondamentale che io personalmente ho imparato nella vita e nel business a forza di sbattere la testa ma devo dire che non l'ho imparato solo io in questa modalità ma anche l'autore Eric Ries ha potuto sul campo sbagliare e verificare un nuovo modo un nuovo modello di sviluppo di un progetto, di un'idea all'interno di una startup, di un business L'idea di fondo del libro qual è? L'idea di fondo è che quando noi abbiamo un'idea o un progetto che vogliamo portare sul mercato ci sembra l'idea più figa del mondo proprio una cosa che porterà innovazione assoluta a un prodotto che si venderà da solo Uè Gaudiano, abbiamo avuto un'idea per un prodotto non te la dico neanche perché questa appena la lanciamo sul mercato fa le scintille ecco invece cosa succede il più delle volte il 99,999 periodico delle volte succede che vai a mettere in campo dei budget del tempo, delle risorse per costruire il sito web, il prodotto fare il marketing, la campagna advertising l'e-commerce e l'integrazione coi sistemi di pagamento spendi migliaia di euro lanci e poi flop un grandissimo buco nell'acqua come è potuto succedere? ci siamo sbagliati il problema non sta in realtà nell'errore di valutazione del singolo prodotto cioè tu pensi che la ciambella con il rivestimento fosforescente sarà un grandissimo successo il problema non è nel fatto che hai pensato che fosse un successo che l'avrebbero comprato tantissime persone e invece non l'hanno comprata il problema è nella metodologia cioè tu hai dato per scontato un'assunzione un dato cioè che le persone avrebbero comprato la ciambella e senza verificarlo prima hai immesso nel tuo sistema nel tuo progetto dei capitali hai dedicato tempo, risorse, denaro e allora che bisogna fare? non bisogna più credere nelle proprie idee ma no, non è quello il problema assolutamente no anzi sviluppiamole queste idee in forma originale cosa dobbiamo fare? dobbiamo trovare il modo il metodo ed è questo che ci insegna il libro Partire Leggeri per lanciare velocemente una forma alleggerita del prodotto per verificare sul campo le nostre assunzioni il dato di fatto cioè non sappiamo se le persone hanno bisogno di una ciambella fosforescente ok lanciamone una vediamo se le persone la vogliono utilizzare la comprano e poi sviluppiamo tutto il sistema per vendere le ciambelle un esempio che fa l'autore è quello di Zappos una start up di vendita delle scarpe allora se io devo fare un e-commerce di scarpe che faccio? vado prima all'agenzia gli dico che devo fare l'e-commerce di scarpe e poi vado a affittare un magazzino acquisto le scarpe le metto in magazzino gli faccio le fotografie le metto tutte sul web mi faccio la pagina facebook intanto mi dedico a fare social media marketing una bella campagna advertising su facebook e poi quando ho tutto funzionante compresa anche tutti gli aspetti diciamo fiscali e amministrativi faccio l'SRL mi metto su tutto pronto per partire vado a fare il logo figo la mission avvalo i propositions qui e lì vado, apri il sito e poi non me le compra nessuno ecco no, non devo fare così vado in un luogo al quale ho accesso dove so che ci sono le persone sui social media vado sulla pagina facebook degli amanti delle scarpe prendo una foto di un paio di scarpe che idealmente vorrei vendere gli do il prezzo che gli voglio dare e dico ragazzi chi vuole comprare queste scarpe? sono delle scarpe da ginnastica leopardate se qualcuno compra quelle scarpe clicca sul tasto compra io materialmente esco di casa vado a comprarle al negozio dove le ho viste quindi non le compro facendo del margine dal grossista creando delle relazioni col fornitore no, le compro allo stesso prezzo al quale le rivendo o addirittura a un prezzo superiore vado alle poste faccio il pacchettino ci scrivo ti voglio bene perché sei il mio primo cliente e lo mando al cliente a quel punto e solo a quel punto saprò che le scarpe da ginnastica leopardate si vendono e allora potrò cominciare a sviluppare l'infrastruttura ho consigliato a decine di clienti nel tempo negli anni passati che sono venuti da me con la febbre dell'e-commerce noi abbiamo il miglior olio biologico noi vogliamo vendere accessori di qua noi vogliamo gli ho detto guarda prima di fare l'e-commerce prima di fare il setup di tutta la struttura prova a vendere un prodotto una volta che tu mi hai venduto un pezzo del tuo prodotto infatti io la prima cosa che chiedo quando uno mi dice noi abbiamo un e-commerce di qualsiasi cosa è quanti prodotti hai venduto anzi ultimamente l'ho fatto in una forma ancora più effetto bocca aperta hai venduto almeno un prodotto perché sono miliardi le persone che hanno e-commerce ma sono altrettanti miliardi le persone che hanno fatto un e-commerce e non hanno mai venduto neanche un prodotto e se tu che mi stai ascoltando sei uno di quelli tranquillo non è un problema non sei il solo non ti devi vergognare non devi raccontare in giro no beh noi vendiamo non come vorremmo e siate tutti nella stessa situazione quindi tranquillo è normale allora come si fa a valutare a creare una a partire leggeri a creare una versione del tuo prodotto che ti permetta di verificare l'idea di fondo cioè che le persone vogliono comprare le scarpe di ginnastica leopardate dice Eric che bisogna creare un minimum viable product nella versione inglese del libro dell'instartup questa è la terminologia che utilizza Eric Reyes che cos'è un il minimo prodotto necessario diciamo il minimo prodotto commercializzabile il minimo servizio fare una roba prototipale ok per assicurarti di poter costruire l'esperienza dell'acquisto quindi cosa ti serve al minimo al minimo per consentire a qualsiasi persona di comprare il tuo prodotto servizio molte volte io accompagno degli imprenditori che mi dicono sto sviluppando qua il servizio e dico senti io in questo momento in questo istante posso darti i miei soldi per avere il tuo servizio eh no cioè sì però in che senso nel senso che io ora ho questi soldi questi quali vedi questa carta di credito voglio darteli come faccio a darteli beh allora dunque noi abbiamo il sito però dunque durante il sito dovresti andare nella sezione contatti mandarci un email chiedere un preventivo a quel punto ti mandiamo il preventivo e allora poi ti diamo tu ce lo accetti e poi ti diamo l'Iban ci fa un boni mentre lo descrivono si rendono conto che stanno descrivendo la pazzia allora gli dico senti se tu per primo crei oggi mille difficoltà per me che ti voglio dare i soldi figurati se il nostro problema è convincere le persone che il tuo servizio vale il nostro problema è abilitare quel passaggio tra il portafoglio del tuo cliente e te che ti consente di fare il minimo per poter vendere il tuo prodotto o servizio e allora è importante costruire il meccanismo minimo e costruirlo molte volte vuol dire diciamo realizzarlo in due forme o nella forma quella che chiama Eric Reyes di concierge cioè quello che dicevo prima per le scarpe crei un e-commerce tutto automatico in realtà poi c'è un umano che fa quella roba crei un prodotto apparentemente tutto automatico ma in realtà poi siccome è più oneroso per te all'inizio sviluppare l'intelligenza artificiale ti ci metti tu con l'intelligenza umana poi quando vedi che le persone utilizzano il meccanismo di scelta con l'intelligenza artificiale di scarpe da abbinare al vestito a partire da un'immagine della persona che ti manda via whatsapp una volta che tu glielo fai come essere umano anche se quello non è scalabile non è scalabile ti ci metti tu una volta che hai verificato che le persone vogliono utilizzare quel servizio allora vai a sviluppare la tecnologia che ti serve quindi o nella forma concierge o nella forma focalizzata sul marketing e sul diciamo il pre-selling il pre-order il meccanismo di kickstarter cioè tu invece che creare il prodotto crea un'immagine del prodotto fai un bel rendering che sembri fotorealistico proprio che sembri che il prodotto esiste già lo pubblichi sul web metti un tasto pre-ordina fai pagare le persone quando vedi che le persone pagano per avere quel prodotto sapendo che poi non gli arriverà il giorno dopo gli arriverà quando sarà pronto tra sei mesi allora dici ma ragazzi vale la pena di svilupparlo sto prodotto mettiamoci là sviluppiamolo perché le persone se lo comprano quindi in queste due forme una è la forma consierge una è la forma marketing diciamo dove fai pre-ordinare il prodotto promuovendo e verificando che ci sia attenzione su quel prodotto specifico puoi misurare le performance del tuo prodotto l'abbiamo mostrato a mille persone l'hanno comprato una persona quindi hai una percentuale di conversione dell'uno per mille beh forse un attimino un attimino bassa oppure abbiamo provato abbiamo messo su una pagina di vendita ci abbiamo fatto una campagna facebook e abbiamo visto che il costo di acquisizione del cliente è 5 euro al cliente peccato che il prodotto di per sé l'avevamo commercializzato in preordine a 4 euro quindi per ogni cliente che lo compra in realtà ci conviene regalarglielo perché per ogni cliente che lo compra noi invece di guadagnare spendiamo un euro e allora ci facciamo più bella figura invece che far arricchire zio Mark Zuckerberg a regalare il nostro prodotto allora vedi il vantaggio di sviluppare un meccanismo minimo di esperienza dell'acquisto per vedere misurare nei numeri le reali performance del tuo prodotto e poi decidere se correggere il tiro o semplicemente ripetere ottimizzando il prodotto che hai lanciato il servizio quindi automatizzando i processi lavorando sulle economie di scala per cui invece che comprare un paio di scarpe ne compri mille scontate dal grossista quindi sai che sicuramente ci vai a guadagnare che se venderla a una persona vendere un prodotto se vendere i primi dieci prodotti ti è costato x potrai semplicemente aumentare il scalare aumentare la vendita per guadagnare di più ma almeno avrai l'assoluta garanzia che il tuo prodotto si vende siamo arrivati alla fine del nostro episodio allora ragazzi partire leggeri eric rice un metodo per fare lean start up innovazione senza sprechi per nuovi business di successo se ti è piaciuto questo libro e se sei finanziatore di strategia digitale nella nostra community dei finanziatori amanti dei libri puoi partecipare all'estrazione di una copia di questo libro non sei finanziatore potresti diventarlo potrebbe essere la scusa buona oltretutto vedo che i nuovi finanziatori hanno fortuna molte volte vincono la prima botta e allora ragazzi come si fa a vincere c'è il link in descrizione umediaweb.com slash libro in regalo e vai a partecipare all'estrazione leggendo le poche semplici regole del nostro piccolo concorso simbolico perché regaliamo i libri perché è un modo simbolicamente di far vedere che la formazione nasce dallo scambio dalla relazione non c'è informazione se non c'è relazione allora è bello potersi regalare questi libri ancora più che comprare non ce la fai ad aspettare ti è piaciuto ti è emozionato lo vuoi regalare a tuo zio che ha fatto la start up nessun problema nelle note dell'episodio trovi anche il link diretto per comprare partire leggeri su amazon da qui è tutto infatti voglio ringraziare i produttori di strategia digitale voglio ringraziare Odra Bertolone la coautrice del podcast il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano